Oggi giornata di visite mediche in casa Piacenza Calcio che da domani riparte ufficialmente in vista della nuova stagione di Lega Pro. Oggi però è stato il gran giorno del centravanti tanto atteso del bomber Andrea Razzitti. 27 anni, è qui al nostro fianco, giocatore fortemente voluto da mister Franzini. Ci spieghi il perché di questa rincorsa che dura da almeno due anni? Sì, il mister mi cerca ormai da due anni, due anni e mezzo e finalmente siamo riusciti a fare questo matrimonio. Quello di speciale Razzitti? Penso che sia per la generosità che metto in campo e il fatto che comunque sono un giocatore che non molla mai, che dà una mano alla squadra anche in fase di costruzione, che fa anche gol, quindi penso che le caratteristiche siano queste, quelle che interessano al mister diciamo. Dicevamo 27 anni in prestito dal Brescia, che cosa ti ha spinto a sposare la causa biancorossa? Mi ha spinto innanzitutto l'interesse forte che mi ha dimostrato la dirigenza, l'interesse del mister e indubbiamente il blasone della piazza perché Piacenza è una piazza che è tornata nel professionismo dopo qualche anno, che ha fatto anche categorie superiori, quindi è una piazza di tutto rispetto, è una piazza che mi piace molto. Questo comporterà anche forti responsabilità, visto che dai tuoi gol dipenderà molto probabilmente anche l'eventuale salvezza del Piacenza. Sì, sono stato chiamato per questo, quindi è motivo di orgoglio avere questa responsabilità e non vedo l'ora di iniziare. Oggi su Libertà scrivevamo un mercato condotto con i giusti tempi, squadra che arriva al gran completo o quasi al giorno del ritiro. Le rifaccio la domanda, che voto si dà dal direttore sportivo? Vorrei prima far parlare il campo, per cui vediamo il campo, vediamo se questi giocatori che abbiamo inseguito, che il mister ha voluto, che io sono riuscito a chiudere, siano giocatori che faranno bene, la speranza è quella, dopodiché daremo un voto al direttore sportivo o lo licenzieremo. Siamo quasi al completo, ci siamo adesso con la squadra? Sì, direi di sì, comunque il mercato chiude il 31 di agosto, noi comunque rimaniamo vigili, per cui se ci sarà qualche occasione non ci tireremo indietro, però la rosa è una rosa di 23-24 giocatori, più 3-4 giocatori in prova, per cui sicuramente è una rosa competitiva. Ultima cosa, possiamo anche pensare a qualche sogno o questa squadra è stata costruita solo e unicamente per la salvezza? No, noi siamo una neopromossa, dobbiamo ricordarci che il nostro obiettivo è quello di mantenere la categoria, è logico che è un discorso che ho già fatto a tutti i ragazzi che ho incontrato e ho trattato, e poi sono riuscito a portare a Piacenza, noi non dobbiamo avere nessun timore referenziale contro nessuno, noi segneremo in campo per cercare di giocare e di vincere tutte le partite. Poi ci saranno i valori che pareggeremo, perderemo, però sicuramente l'impegno sarà massimo e questo sarà il nostro obiettivo.